Dov'è finita la tua rana? Me la sono... me la sono fatta scappare! Che avete da guardare? Au! Mancata! Ah! Idiota! Che stai facendo? Prego tu, aiutami! Ora, va! La puoi smettere! Non ti muovere! No, no, no! Ti prego, ti prego! Ti prego, lontano! Guarda questa! Vieni qui! Leggono! Allucinante! Non ho mai creduto che le rane fossero folpe! E parliamo anche! No, no, no! Siamo spiriti non fuoriى! Siamo suicida! C'è? Siamo! Siamo! Siamo!